Ciao ragazzi ed eccoci alla seconda puntata di questo mio mini corso di modellismo. Tutto quello che vi dirò non è esclusivamente ad appannaggio del modellismo storico o medievale, ma siccome io sono un'appassionata di storia antica e medievale, ho deciso di improntare questo corso con tutta una serie di esempi che io ho fatto. Allora innanzitutto chi sono? Io sono una persona che come istruzione sono un informatico, sono laureata in informatica, ma fin da piccolina ho sempre avuto tanti interessi e anche una buona manualità. Tutto quello che vedrete, di cui vi parlerò, probabilmente anche per un'altra lezione ancora, o forse altre due, saranno delle lezioni apparentemente teoriche, ma che sono importanti. Importanti perché mi sono resa conto negli anni che i manuali classici di modellismo spesso sono complicati, sono un po' difficili, sono fatti da persone che magari hanno vinto grandi concorsi. Io ho vinto dei concorsi e anche uno molto prestigioso, però sono stata contenta di aver seguito tanti anni fa, nel 1999, un corso di modellismo. Adesso faccio scorrere un po' di immagini e poi ritorno sul punto di modellismo e dove ci hanno veramente insegnato tante cose che vorrei quindi trasmettere a voi. Allora, io ho realizzato un manuale, chi vorrà poi lo può acquistare, realizzato da me, è un documento molto semplice, oppure posso fare anche delle lezioni individuali. In realtà io mi trovo molto meglio a fare delle lezioni individuali attraverso Skype, dove vi posso mostrare anche su richiesta proprio la realizzazione di alcune parti. Per questo minicorso io userò, con esperienza fatta sul campo, tre realizzazioni, tre progetti. Uno è un villaggio medievale, e questo, e poi vi farò vedere altre immagini. Il villaggio medievale è realizzato con una tecnica mista, che potrebbe, per quanto possa sembrare complesso, potrebbe andare bene per chi inizia a lavorare nel campo del modellismo. E poi vi dirò perché. Qui mi sono appunto avvalsa di alcune cose già realizzate e altre no. Poi ho messo molta mia fantasia e ho cambiato molto. Questo è il primo castello in assoluto che ho realizzato, completamente a mano. È un castello che non esiste nella realtà. Vi faccio vedere, questo è visto anche dai lati. Qui è la sala del trono, tutto fatto a mano, non c'è quasi nulla di acquistato. Poi vi dirò che cosa è acquistato. E la sala del trono. E questo invece è la rocca di Soncino, che ho realizzato totalmente a mano. Vi faccio vedere per ora qualche altro dettaglio. E con la rocca di Soncino, nel 2016, ho vinto il primo premio per, come chi sa leggere in inglese, per, ingrandisco magari un pochino, per l'architettura in scala. E per i dettagli, diciamo, architettonici. Era una fiera di modellisti. Io ero l'unica, eravamo 700 espositori, tutti i progetti fatti più o meno a mano. Io ero l'unica donna e ho vinto il primo premio. Allora, torniamo un attimo indietro. Così, queste sono alcune parti semplificate del mio manuale. E perché ho deciso di realizzare da me un manuale di modellismo? Scusate, apro un po', così potete leggere anche meglio. Ho deciso di realizzare un manuale di modellismo perché tutti quelli che io ho letto, come ho detto prima, sono in genere un po' troppo difficoltosi. Invece io vi farò vedere proprio i progetti che ho realizzato io e, ripeto, poi sarò molto più precisa e tagliata a chi vorrà fare un corso uno a uno. Allora, scendiamo quindi nel manuale e vi partiamo con il piano dell'opera, quindi del mio manuale, quindi di questo corso fatto di varie puntate che appunto metterò sul canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Chi si iscriverà al canale e mi dà prova di iscrizione al canale potrà ricevere gratuitamente, nell'arco di un mese, ogni mese, un paio di risposte via email a dei quesiti inerenti al modellismo. Allora, il piano di quest'opera, quindi sia il manuale sia anche quello che vi farò vedere, è che cosa? Allora, innanzitutto c'è una prima parte dove c'è una descrizione più generale del lavoro del modellista, quindi che cosa fa il modellista? Riporto immagini relative alla costruzione, userò la rocca di Soncino perché è un castello reale molto bello e poi vi dirò, scenderemo nei dettagli. La seconda parte invece di questo corso è una descrizione decisamente più dettagliata e del lavoro fin dalle prime fasi, corredato con, vi farò vedere, foto anche dettagliate e il lavoro sarà la realizzazione di una torre medievale, quindi di una torre di controllo. Poi vi farò anche vedere alcune immagini della rocca di Soncino che ho scattato durante le fasi di costruzione. Ecco, vediamo, partiamo con la prima parte. Mi raccomando, se ci sono delle richieste sarò ben lieta di rispondervi. E i corsi che io tengo sono corsi molto economici, con pagamento in anticipo di quattro lezioni. Io pur vivendo negli Stati Uniti mantengo un conto in Italia perché ho vissuto fino a 15 anni fa in Italia e come dicevo quattro lezioni in anticipo, solamente 15 euro a lezione. Allora, partiamo con delle premesse generali. Come si progetta un lavoro di modellismo e le fasi di realizzazione? Ecco, io mi fermerò più o meno dopo dieci minuti in maniera tale che poi sarà oggetto il prosieguo di altre puntate. Allora, come si progetta un lavoro? Una cosa molto importante è che durante la progettazione noi dobbiamo tenere a mente una serie di aspetti. Altrimenti ci invischiamo, iniziamo bene, tutti felici, allegri e poi ci areniamo o subito o abbastanza subito. Allora, innanzitutto noi dobbiamo essere sinceri con noi stessi e capire qual è l'abilità personale. È un fatto importante per capire con che lavori possiamo fare. Se vogliamo, se siamo, ecco, poi molto importante non solo essere appunto sinceri con noi stessi e capire che abilità abbiamo, lo spazio a disposizione, approfondiamo anche quello, il tempo a disposizione. Allora, questi tre punti sono importantissimi. Ricominciamo dal primo, l'abilità personale. Allora, l'abilità personale ci permette di capire che tipo di lavoro possiamo iniziare. Se noi, per esempio, abbiamo già una buona dose di creatività e di abilità, anche manuali, capacità nel lavorare anche con molti tipi di materiali, perché vedremo, qui si usano molti materiali, quindi con il legno, col cartoncino, con la creta, con il DAS, allora ci possiamo, come ho scritto, lanciare in un progetto più complesso, dove magari molto lavoro è fatto anche a mano. Se torniamo indietro nelle immagini, io ho chiamato modelli C, modelli S, che cosa? Modello S, la rocca di soncino, modello C e il castello, e sono, richiedono una buona manualità. Se invece noi abbiamo molta buona volontà e pazienza, però non ci siamo mai cimentati in questi tipi di lavori, allora è bene iniziare con lavori, anche se possono sembrare un po' complessi, però sono più semplici. L'ho chiamato modello V, che il modello V è quello del villaggio medievale, che poi ritorniamo a vederli. Anzi, se volete, vi faccio rivedere qual è il modello che può sembrare più complesso, ma alla fine è più semplice. Torno indietro, scusa, è questo. Io ho questo modello, questo lavoro, che è un villaggio tra il dodicesimo e tredicesimo secolo, poi vi farò vedere tante altre belle foto. Di questo villaggio io ho comprato un kit dove c'era il cartamodello, che poi vedrete e vi spiegherò che cos'è. Ci sono i mattoncini e delle spiegazioni, più una piccola parte di materiale. Ma io che cosa ho dovuto fare? La composizione, ho cambiato, ho messo in questo caso di mio, ma se non si ha molta abilità, si può rimanere nel puro rispetto di quello che il kit prevede di fare. Io quando l'ho comprato per curiosità ho aggiunto tante cose di mio, poi vi dirò quali, ma perché? Perché avevo già una buona manualità già da tempo. Allora, riprendiamo. Quindi abbiamo detto che nella progettazione è importante capire con noi stessi che cosa possiamo realizzare. Lo spazio a disposizione. Attenzione, qui per spazio a disposizione che cosa intendo? Non solo lo spazio che abbiamo durante la realizzazione del lavoro. Attenzione che non possiamo ogni sera mettere a posto, riprendere su un qualche tavolo il lavoro il giorno dopo o quando possiamo continuare. No, dobbiamo avere uno spazio di lavoro che per tutto il periodo di realizzazione deve essere a disposizione e che possiamo permetterci di lasciare anche in maniera disordinata. E poi, importante è lo spazio finale, cioè a modello, a lavoro finito abbiamo lo spazio per me, per riporlo. Vi faccio vedere, per esempio, rapidamente qui, in casa mia, gli spazi. Questi sono mobili dell'IKEA, ritorno qui, mobili quindi dell'IKEA dove io, quando ho realizzato questi progetti, sapevo già che lo spazio era un certo tot di spazio. Quindi avevo quello come finale, però poi in una stanza che io dedico, una stanza di lavori, avevo un, ho montato un tavolo da campeggio sempre lì da lasciare tutto il mio lavoro e poter poi riprendere. Attenzione, e poi termino questa prima fase, il tempo a disposizione. Anche, molto importante, è riflettere sul tempo a disposizione, che è una componente importantissima nei lavori di modellismo, perché ci permette, ecco, anche questo è un elemento che ci permette di valutare il tipo di lavoro che possiamo realizzare. Attenzione, che i modelli che vi ho fatto vedere, quindi i miei modelli, sono modelli che hanno richiesto molto tempo. Io, quando li ho realizzati, lavoravo a tempo pieno, avevo un lavoro con l'informatico e quindi io potevo lavorare rosicando del tempo nel fine settimana e durante la sera, dopo mangiato. Io non guardavo la televisione, lavoravo e in questa ottica richiesto un mese, ogni progetto, circa un anno e mezzo di lavoro. Attenzione, che sono tempi lunghi. Ho calcolato che una persona invece, o perché è già in pensione, o perché si può permettere di non lavorare, potrebbe impiegare circa tre mesi lavorando tante ore al giorno. Occhio che non si può lavorare troppe ore, perché poi la vista veramente va a pallino, soprattutto per tutti i dettagli molto piccoli. Allora, io vi saluto con questa prima lezione reale, che poi è il secondo intervento. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube e metterò nelle descrizioni sotto, come al solito, i miei riferimenti, se volete contattarmi. Io qui vi rifaccio rivedere i vari lavori che ho realizzato, poi vedremo molti più foto di dettaglio. Questa è una parte della Rocca di Soncino, questa è la Rocca di Soncino nella sua interezza, la Teca l'ho realizzata io, con cui ho vinto nel 2016 il primo premio per il migliore, vedete c'è scritto Best in Architecture Scale, che vuol dire il miglior lavoro in quanto a riduzione, quindi in scala ridotta. E poi c'è questo lavoro di modellismo, che è un castello da me inventato, che è questo. La parte sul davanti, e questo è anche un'altra cosa bella in molti lavori di modellismo, la parte davanti del castello è attaccata con il velcro, che mi ha permesso appunto di poter aprire costantemente, far vedere anche ai miei ospiti, l'interno della sala. Io vi saluto e mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale e seguite anche gli altri corsi. Occhio che io scrivo anche, realizzo romanzi, scrivo romanzi gialli, seguitemi anche su Amazon. Ciao!